Deputato Di Muro, prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo prima dell'inizio della seduta sull'ordine dei lavori. Noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze. Siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici. Vede Presidente, in tutte queste attività che facciamo tutti i giorni, noi tralasciamo i veri valori. Tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere così. Questo per me non è un giorno come tutti. Per me è un giorno diverso e un giorno speciale. Quindi, Presidente, con rispetto non mi rivolgo a lei, ma mi rivolgo in tribuna per dire... Elisa, mi vuoi sposare? Deputato Di Muro, capisco tutto, però usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso.